Ma perché non ti arrendi? Perché mi pare giusto combattere fino a che posso, finché forse la natura mi consente. Voglio tenere duro di fronte ai nemici, agli avversari di idee, a chi tradisce la parola, a chi specula sulle disgrazie. Esiste una realtà di persone serie, coerenti, rigorose, che non fanno trasformismo, non cedono a altre potenze. Non ho mai ceduto. Sono Bruno Segre, nato e residente a Torino, nato il 4 settembre 1918. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS